niente amici praticamente ovunque io vado se ho bisogno di parrucchieri o di make up chiedo a loro e mi forniscono tutto cioè pazzeschi ecco capelli fatti da venite qua raga presentatevi ciao raffaele rocco buongiorno seguitelo tutti se avete bisogno ibiza lui c'è niente poi volevo anche dirvi che farò una sorpresa chi segue questa pagina top buongiorno seguiti buongiorno seguiti